Display OLED, oggi utilizzeremo un piccolo display a OLED, una tecnologia differente dagli LCD che usiamo di solito sono dei piccoli display molto economici, grafici, che vengono collegati ad Arduino usando l'i2c che è molto comodo perché richiede solo due fili o altrimenti ne esistono anche modelli con le SPI un po' più laboriosi da collegare il fatto è che questi display possono visualizzare in modo molto brillante delle informazioni, quindi grafica o testi hanno 128x32 pixel o addirittura 128x64, i modelli più diffugi sono abbastanza semplici da usare se individuate le librerie corrette, vediamo subito come fare display a OLED, sono dei display molto piccoli, di dimensione di qualche pollice, quindi proprio qualche centimetro molto versatili perché permettono di visualizzare scritte in bianco e nero o a colori, quindi dipende dal modello che comprate sono economicissimi e permettono di visualizzare sia scritte che grafiche, quindi sono perfetti per realizzare dei piccoli prototipi, vediamo come collegarne uno al nostro Arduino, quello che ho utilizzato io, usa chipset SSD1306, ce ne sono con varie misure, è un 128x32, vuol dire che ha 128x32 pixel, quindi ha 138 colonne e 32 righe di pixel che possiamo accendere singolarmente ed è bianco e nero, quindi è monocromatico. La schedina è una schedina bassa e lunga e ha 4 pin posti su un bordo, ne esistono di varie forme, ci sono altre che hanno una disposizione leggermente differente, comunque troviamo un pin che è GND, un pin che è l'alimentazione, quindi lo porteremo ai 5V, gli altri due invece sono l'SCL e l'SDA che vanno collegati e riportati all'Arduino, questo qui è il nostro Arduino, dunque abbiamo l'SCL, trovate i pin subito di fianco al pin 13, abbiamo quindi SDA e SCL, ricordatevi di mettere, sarebbe meglio mettere delle resistenze di pull up da 10k sia su una linea che sull'altra. Con questo modello che ho utilizzato io, dopo qualche prova ho scoperto che le librerie migliori, quelle che funzionavano meglio erano le Adafruit, che è un produttore internazionale abbastanza famoso e anche di qualità, anche se quella che ho io non è un Adafruit. Prima di tutto installate le librerie con Sketch, Include Library, Manage Library, andate a cercare SSD1307, mettiamo nella casella di filtro SSD1306, vedete che esce Adafruit, la seconda riga ed è installata, quindi ho installato questa qua. Per usare le librerie di Adafruit vi serve anche una loro libreria grafica che si chiama GFX, quindi cercate GFX e trovate la Adafruit GFX Library che serve per gestire la grafica, ok? Quindi installatele tutte e due altrimenti il tutto non funziona. Poi per vedere se la cosa funziona, dopo aver cablato la vostra schedina, andate negli esempi dove troverete Adafruit SSD1306, avete vari codici, caricate il 128x32i2c o quello compatibile con la vostra scheda, vedete è abbastanza complesso, fa tante cose, quindi scrive testi, mostra una grafica, adesso vedremo poi come fare, compilatelo e caricatelo sul vostro Arduino per vedere se il display funziona. Come vedete realizza una serie di effetti grafici veramente molto carini e interessanti. Ok, a questo punto proviamo noi a fare qualcosa, allora andiamo a prendere lo sketch d'esempio e teniamo buone alcune cose, quindi partiamo dall'inizio e facciamo l'include della libreria Wire che è quella che serve per gestire l'i2c, quindi lo mettiamo in cima, poi andiamo ad aggiungere le librerie di Adafruit, la GFX e la SSD1306H, quindi le mettiamo qua sotto, quindi abbiamo l'Adafruit GFX, ricordatevi l'underscore, le maiuscole, punto H e poi SSD1306.H. La libreria vi fornisce un oggetto adafruit, quindi questo è il tipo dell'oggetto, lo chiamiamo display, ha bisogno dei parametri per poter essere inizializzato. I parametri che gli forniamo sono le dimensioni dello schermo, quindi 128x32, ha bisogno di poter gestire direttamente l'i2c, quindi non lo fanno internamente, dobbiamo passargli And Wire, quindi l'oggetto che rappresenta l'i2c, con la E davanti perché gli stiamo dando l'indirizzo, e poi ha bisogno di un pin di reset, quindi il pin 4, con quella che abbiamo noi non lo gestiamo perché andiamo direttamente, però se non lo mettiamo probabilmente si arrabbia, quindi specifichiamo questo pin di default. Iniziamo subito nel setup andando a inizializzare la libreria, quindi facciamo if display.begin, è il metodo da chiamare per inizializzare la libreria. L'inizializzazione viene fatta chiamando questo begin, fornendogli una costante che dice qual è il tipo di chipset e dando l'indirizzo della schedina, quindi del display. Sapete che ogni dispositivo i2c ha un proprio indirizzo, quindi quello del display è 3c, dovrebbe dirvelo il produttore. In questo caso è legato al chipset, quindi l'SSD1306 risponde a questo indirizzo. Quindi questa cosa qua verifica se la schedina è collegata direttamente e se c'è qualche problema o non riesce a comunicare, diciamo blocca l'esecuzione dello sketch, quindi while true, con il punto e virgola, ci impastiamo qua. Questa scritta ovviamente l'ho trovata nel file di esempio, che altrimenti non ci sarei mai arrivato, partite sempre dagli esempi per capire come iniziare. Dopodiché possiamo far così, facciamo display.display, questa operazione stampa quello che c'è nel buffer, facendo così vi stampa il logo Adafruit, per pulire il display si fa display.clearDisplay. Proviamo a usarla, quindi a scrivere qualcosa, facciamo semplicemente una scritta e la facciamo muovere, il classico è Hello World, quindi facciamo allora display.clearDisplay. Per scrivere, dobbiamo dire le misure del testo, quindi facciamo display.setTextSize, diciamo la misura del font, ok? Fate varie prove, quindi se usate due riuscite a mettere due righe sul display, se usate come textSize1 riuscite a metterne quattro. Possiamo andare il colore, allora qui abbiamo bianco-nero perché il display è monocromatico, quindi facciamo textColor e diciamo white, tutto maiuscolo, che è una costante definita dalla libreria. A questo punto siamo pronti per scrivere. C'è un'altra cosa da fare, da specificare il tipo di font da utilizzare, anche qua è una scritta brutta, ma la recuperiamo dall'esempio, altrimenti non ci si arriva. Quindi cp347 true, in modo da utilizzare un tipo particolare di caratteri. Prendiamo così come sono e le applichiamo ogni volta che vogliamo stampare un testo. Ora siamo pronti finalmente per scrivere il nostro Hello. Facciamo quindi set del cursore, quindi facciamo display.setCursor. Qua gli diamo le coordinate x, y. Attenzione che ragiona a pixel e non a righe colonne come l'LCD. Quindi creiamo una variabile int x uguale 0 perché faremo muovere la scritta. Quindi vado in fondo qua, nel mio set cursor, gli dirò x virgola e mettiamo 0. Quindi il testo inizia a scriverlo dall'angolo in alto a sinistra. Scriviamo il messaggio con display.print e lo, con il punto esclamativo. Scriviamo le parentesi, punto e virgola. Poi facciamo display.display per far visualizzare quello che abbiamo creato, quindi per far uscire il testo. Mettiamo un piccolo delay, altrimenti le cose sono troppo veloci, quindi 200 millisecondi. E poi andiamo a modificare la nostra variabile, incrementiamo la x e se x è maggiore o uguale della lunghezza dello schermo, quindi 128, andiamo a riportarla a 0 così il testo riparte dall'inizio. Vedrete comunque che mentre lo visualizza arriva in fondo e a un certo punto poi va in parte a capo perché sconfina. Dovrei andare a calcolare a seconda della stringa che scrivo, se volessi evitare questo sconfinamento, mettere un numero più piccolo di 128 in modo che appena la stringa tocca il fondo dello schermo riparte. Quindi lascio a voi questo come esercizio. Compiliamo e carichiamo sulla scheda per vedere che effetto che fa. Abbiamo utilizzato anche il display OLED, è veramente meraviglioso perché è piccolissimo, riuscite a inserirlo in prototipi che hanno dimensioni molto ridotte e grazie alle capacità di visualizzazione, perché esistono anche a colori, riuscite a fare delle cose veramente incredibili. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!